Ciao Indison! Vi ricordate Massimo Troisi in Non ci resta che piangere? Quando per una strana magia che in realtà non vedevamo neanche, era appunto un espediente cinematografico un po' strano ai tempi, firmato Benigni Troisi, quando Massimo Troisi per corteggiare la figlia del castellano che era Amanda Sandrelli le cantava Yesterday, bom bom, la musica, faccio la bocca, far away, insomma lui che idea aveva avuto? Era nel 1492, quasi 1500, dicevano, e dice io per corteggiare una ragazza tiro fuori Beatles, tanto e chi li conosce? In questo secolo nessuno. Stessa identica idea, forse Richard Curtis e Danny Boyle forse forse sono affezionati a qualcosa del cinema italiano, però in questo film che è Yesterday, appunto di Danny Boyle, scritto da Richard Curtis, abbiamo anche qualche altra idea, qualche rimando cinematografico, ad esempio Ritorno al futuro, perché quando questo ragazzo, il buon Jack Malick, indiano e inglese, scopre che dopo uno strano magico incidente, blackout, il mondo nel 2018 non ha mai conosciuto i Beatles, usa lo stesso espediente di Troisi, non tanto per corteggiare una donna, anche se c'è anche questo, quanto per diventare famoso, perché è uno spiantato che suona alle festicciole di paese, a scuola, in varie occasioni, c'ha una lira, non è famoso, non riesce a fare successo e quindi usa i Beatles. Nessuno conosce i Beatles in questa Inghilterra post strano avvenimento magico? E allora ci penso io e tira fuori tutte, tutte, tutte le canzoni dei Beatles, fingendo che siano sue, chiaramente. Però non è che dopo questo incidente non esistano più soltanto i Beatles. Lui va su Google oppure nelle interazioni con le persone durante le sue giornate, tira fuori dei nomi di alcune cose che, attenzione, sono tutte icone pop, anche se non direttamente collegate con i Beatles e non esistono più nel 2018, chiamiamolo alternativo. Chiaramente non esistono nemmeno gli Oasis, perché sono un po' strettamente collegati con i Beatles. A differenza di Non ci resta che piangere e Ritorno al Futuro non c'è un salto temporale del protagonista che va nel passato o nel futuro. Rimane nel 2018 con questa piccola, come dire, differenza. Ma questo a cosa si collega? Al fatto che questo incidente, questa magia, ci permette di osannare, celebrare e fare un grande omaggio alla musica dei Beatles, a John Paul, Ringo e George. In poche parole, il messaggio di questo film è senza di loro sarebbe stato un gran brutto mondo, meno male che loro ci sono stati. È una celebrazione che possiamo ritrovare in alcuni film, tipo Across the Universe o anche altri. È un film, sì, non è un capolavoro, è un film molto carino che appartiene a un genere che a sua volta appartiene ad alcuni personaggi che l'hanno trasformato in un genere bellissimo, tra i miei generi preferiti, che è la commedia inglese a base musicale, chiamiamolo così. Questo perché, al di là del regista, che è il buon Danny Boyle, che si diletta di nuovo con gli indiani ormai, dopo di minione era lui, prende tutti i Patel come cognome che ci siano in giro, adesso ne lancia un altro, sempre Patel di cognome, stavolta la coprotagonista non è indiana ma è una meravigliosa Lily James, però a parte Danny Boyle con la sua regia, il suo montaggio e il suo modo di fare cinema, spensierato ma che sembra così, ma in realtà non lo è più di tanto, si affida al numero uno degli sceneggiatori della commedia inglese, cioè Richard Curtis. Volete dei titoli buttati giù così? Quattro matrimoni e un funerale, alcuni episodi di Mr. Bean in televisione, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, I Love Radio Rock, Love Actually, gli ultimi due, era anche regista. Insomma, le grandi commedie inglesi che hanno fatto storia negli anni 90 e inizio 2000, tutte a sfondo musicale. La grande passione di Richard Curtis per la musica, che viene proprio messa in sceneggiatura dichiaratamente. Cosa dire di questo film, a parte questa trama che vi ho spiegato? È una commedia che ha dei risvolti molto interiorizzanti sulla morale anche del ma cosa faccio adesso, metto a usare le canzoni dei Beatles e se saltasse fuori qualcuno che come me invece si ricorda di quei quattro di Liverpool è un macello, e invece è giusto, non è giusto utilizzarli? Divento famoso? Oppure al giorno d'oggi funzionano i Beatles? Vedrete nel film, ovvio funzionino ancora. C'è nello svolgimento di questo film una scena circa tre quarti che mi ha stupito perché stava andando tutto lineare, secondo sceneggiatura, con quello che ci si può aspettare da questo tipo di film, da questo tipo di personaggi, quando a un certo punto dal nulla viene fuori un incontro tra il protagonista, Jack Malick e qualcuno che mi ha lasciato un attimo sbigottito, colpo di genio di Richard Curtis e Danny Boyle in questo film. Menzione speciale per Ed Sheeran che ha una parte molto importante nel film e recita molto bene, soprattutto perché viene praticamente umiliato, non vi dico altro, ma da Jack Malick che gli snocciola, boom, canzoni dei Beatles così e questo a un certo punto diceva, beh, ma mi aveva aperto un concerto con due pezzi che aveva tirato fuori, che ovviamente erano dei Beatles, adesso mi tira fuori una discografia pazzesca questo ragazzo, io non devo fare altro che inchinarmi e lasciare il passo. C'è anche uno dei temi ricorrenti di Richard Curtis che è il personaggio weird, strano, pazzo, spalla del protagonista vi ricordate Rye Siphons, la mitica spalla comica di Hugh Grant in Notting Hill e qui abbiamo lo stesso tipo di personaggio. Insomma, una commedia musicale molto ben scritta, che coinvolge molto, che chiaramente apre il cuore e la mente di tutti i fan dei Beatles, parlando di gusti personali, musicali inglesi, una piccola vittoria è che i Beatles non ci sono, ma non ci sono nemmeno gli Oasis che sono collegati ai Beatles, non ci sono tante altre cose pop nel mondo dopo questo incidente magico, ma i Rolling Stones ci sono e come dice Jack Malick quando li cerca su Google, li trova e dice ok, Rolling Stones, they keep rolling, ovviamente. Godetevelo, è un film molto allegro, divertente, che mette il buon umore e che mi è piaciuto abbastanza, sta guadagnando molto bene nel mondo e perché? Perché alla fin fine è un nostalgia movie, perché oggigiorno, ma chi te le tira fuori? E qui appunto anche lo stesso, Eddie Sheeran, bravo e famoso com'è, si deve inchinare e chi te le tira fuori oggi certe genialate che appartenevano a John, Paul, Ringo e George? nessuno grazie mille per questa attenzione alla pagina di Nuanda per questa nuova recensione video e alla prossima con Indiso, ciao!